Occhio che si gira, pallone largo per Neymar che la mette giù, poi 1-2 ma c'è posizione irregolare, non è contento il Campionovio, vuole sempre vedere giocare. Qui adesso si accende un piccolo camanello, francamente eravamo più... Ammoniti, Yangambiwa e Messi, non so se Yangambiwa ha interpretato una presa in giro da parte di Messi, che comunque si è fermato quando è stato segnalato il fuorigioco, si sono messi a brutto muso. Ammoniti, Yangambiwa e Messi, adesso magari la rivedremo meglio, la regia è riuscita a pescare questo momento. Ecco, vedi qui Messi si ferma, Yangambiwa gli dice qualcosa. E qui si accendono un po' gli animi, in realtà non sembra fosse successo perché il gioco comunque era fermo.